ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i buciardini in questo video ti leggo il buciardino del farmaco tacrozen pier fabre italia spa ultimo aggiornamento 7 luglio 2022 cos'è tacrozen confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere tacrozen durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinettiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cos'è tacrozen tacrozen è un farmaco a base del principio attivo tacrolimus appartenente alla categoria degli immunosoppressori e nello specifico preparati per dermatiti escluso i corticosteroidi è commercializzato in italia dall'azienda pier fabre italia spa tacrozen può essere prescritto con ricetta rrl medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti confezioni tacrozen 0,1 per cento unguento 10 g informazioni commerciali sulla prescrizione titolare pier fabre italia spa ricetta rrl medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti classe a principio attivo tacrolimus gruppo terapeutico immunosoppressori forma farmaceutica unguento indicazioni tacrozen 0,1 per cento unguento è indicato negli adulti e negli adolescenti di età uguali o superiori ai 16 anni trattamento delle riacutizzazioni adulti e adolescenti di età uguali o superiori ai 16 anni trattamento della dermatite atopica da moderata a grave negli adulti che non rispondono adeguatamente o che sono intolleranti alle terapie convenzionali quali i corticosteroidi topici trattamento di mantenimento trattamento della dermatite atopica da moderata a grave per la prevenzione delle riacutizzazioni e per il prolungamento degli intervalli liberi da esacerbazioni in pazienti con riacutizzazioni molto frequenti ad esempio 4 o più volte l'anno che abbiano manifestato una risposta iniziale a un trattamento della durata massima di 6 settimane con tacrolimus unguento due volte al giorno lesioni scomparse quasi scomparse o presenti in forma lieve posologia il trattamento con tacrozen deve essere iniziato da medici con esperienza nella diagnosi e nel trattamento della dermatite atopica tacrolimus è disponibile in due dosaggi tacrolimus 0 e 03 per cento e tacrolimus 0,1 per cento unguento posologia trattamento delle riacutizzazioni tacrozen può essere utilizzato per il trattamento a breve termine e per il trattamento intermittente a lungo termine il trattamento non deve essere continuo per lunghi periodi di tempo il trattamento con tacrozen deve iniziare alla prima comparsa dei segni e dei sintomi ciascuna zona dell'acute colpita deve essere trattata con tacrozen unguento fino a che le lesioni siano scomparse quasi scomparse o presenti in forma lieve successivamente i pazienti sono considerati idonei al trattamento di mantenimento vedere sotto ai primi segni di ricomparsa riacutizzazione dei sintomi della malattia il trattamento deve essere ricominciato adulti e negli adolescenti di età uguale o superiori ai 16 anni il trattamento deve iniziare con tacrozen 0,1 per cento due volte al giorno e se le condizioni cliniche lo consentono è opportuno tentare di ridurre la frequenza delle applicazioni utilizzare il dosaggio inferiore tacrolimus 0 e 0 3 per cento unguento generalmente si osserva un miglioramento entro una settimana dall'inizio del trattamento se dopo due settimane di trattamento non si riscontrano segni di miglioramento si dovranno considerare altre opzioni di trattamento popolazione anziana non sono stati condotti studi specifici nella popolazione anziana tuttavia l'esperienza clinica disponibile per questa popolazione di pazienti non ha mostrato la necessità di modificare il dosaggio popolazione pediatrica nei bambini di età compresa fra i due e i 16 anni deve essere usato solo tacrolimus 0 e 0 3 per cento unguento tacrozen unguento non deve essere usato nei bambini al di sotto dei due anni fino a che non saranno disponibili ulteriori dati trattamento di mantenimento i pazienti che rispondono fino a sei settimane di trattamento con tacrolimus unguento due volte al giorno lesioni scomparse quasi scomparse o presenti in forma lieve sono idonei al trattamento di mantenimento adulti e adolescenti di età uguali o superiori ai 16 anni i pazienti adulti di età uguali o superiori ai 16 anni devono usare tacrozen 0,1 per cento unguento tacrozen unguento deve essere applicato una volta al giorno due volte alla settimana ad esempio lunedì e giovedì sulle zone generalmente colpite dalla dermatite atopica per prevenire le riacutizzazioni tra un'applicazione e l'altra devono trascorrere 23 giorni di interruzione del trattamento con tacrozen dopo 12 mesi di trattamento il medico deve rivalutare la condizione del paziente per decidere se continuare il trattamento di mantenimento in assenza di dati sulla sicurezza del trattamento di mantenimento oltre i 12 mesi qualora si presentino nuovamente segni di riacutizzazione dovrà essere ricominciato il trattamento due volte al giorno vedere il paragrafo precedente sul trattamento delle riacutizzazioni popolazione anziana non sono stati condotti studi specifici nella popolazione anziana vedere il paragrafo precedente sul trattamento delle riacutizzazioni popolazione pediatrica nei bambini di età compresa tra i due e i 16 anni deve essere usato solo tacrolimus 003 per cento unguento tacrozen unguento non deve essere usato nei bambini al di sotto dei due anni di età finché non saranno disponibili ulteriori dati modo di somministrazione si deve applicare un sottile strato di tacrozen unguento sulle zone della cute colpite o generalmente colpite tacrozen unguento può essere applicato su tutte le parti del corpo compresi il viso il collo e le zone soggette a flessione ad eccezione delle membrane mucose tacrozen unguento non deve essere applicato con vendaggi occlusivi in quanto non sono stati condotti studi su questo modo di somministrazione vedere paragrafo 44 i pazienti devono essere informati di non fare il bagno la doccia o nuotare immediatamente dopo aver applicato l'unguento l'acqua può lavare via il medicinale controindicazioni ipersensibilità al principio attivo ai macrolidi in generali o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6 1 avvertenze speciali e precauzioni di impiego durante l'uso di tacrozen deve essere ridotta al minimo l'esposizione della cute alla luce del sole e deve essere evitato l'uso della luce ultravioletta uv dei solarium e della terapia vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codita.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione non sono stati condotti studi formali di interazione di medicinali per uso topico con tacrolimus unguento tacrolimus non è metabolizzato a livello della cute umana ciò indica che non sussistono vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codita.it assumere tacrozen durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere tacrozen durante la gravidanza e l'allattamento gravidanza i dati relativi all'uso di tacrolimus unguento in donne in gravidanza non sono adeguati gli studi sugli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva dopo somministrazione sistemica vedere paragrafo 5 3 vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codita.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari tacrozen unguento non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari effetti indesiderati durante gli studi clinici circa il 50 per cento dei pazienti ha riscontrato quale reazione avversa un qualche tipo di irritazione cutanea nella zona di applicazione sensazioni di bruciore prurito sono vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codita.it sovradosaggio il sovradosaggio in seguito da applicazione topica è improbabile in caso di ingestione possono essere richieste misure di supporto generiche fra cui il monitoraggio dei segni vitali e l'osservazione dello stato clinico a causa della natura del veicolo dell'unguento l'induzione del vomito e la lavanda gastrica non sono raccomandati proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica altri preparati dermatologici codice atc di 11 e 01 meccanismo d'azione ed effetti farmacodinamici il meccanismo d'azione di tacrolimus nella dermatite atopica non è completamente conosciuto mentre sono stati osservati i proprietà farmacocinettiche dati clinici hanno mostrato che le concentrazioni di tacrolimus nella circolazione sistemica dopo somministrazione topica sono minime e quando misurabili transitorie assorbimento dati provenienti da volontari sani indicano che l'esposizione dati preclinici di sicurezza tossicità dopo trattamenti ripetuti e tollerabilità locale l'applicazione topica ripetuta di tacrolimus unguento o del veicolo dell'unguento in ratti coniglie e porcellini nani era associata a lievi modifiche delle cute elenco degli eccipienti vaselina bianca paraffina liquida carbonato di propilene cera bianca paraffina solida farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di tacrozema base di tacrolimus sono carelimus fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato grazie per aver guardato il video